ed eccoci qua all'epilogo di questa lunga giornata di biliardo siamo alla finale della terza tappa Fibis Open dall'hotel bizantino di Massafra in provincia di Taranto i due contendenti ve li presenteremo tra poco alla regia Mirko Bianchi e qui con me come al solito Nicola Biondi una grande finale tra Andrea Ragonesi ed Achille Mignolo nella semifinale Achille Mignolo ha avuto ragione drammaticamente del lupo Simone Soresini mentre Andrea Ragonesi ha regolato per 3 set a 1 il buon Mario Alibrandi una buona prova per il siciliano arbitro dell'incontro come già successo in altri Salvatore Bagno del Comitato di Lecce un buon Achito di Andrea Ragonesi la risposta al volo dalla lunga per Achille Mignolo entrambi molto giovani un po' più giovane Andrea Ragonesi ci corre circa 10 anni ma sicuramente anche il fatto di essere giovani gli ha permesso di arrivare in questo tool de force perché ricordiamo da stamattina alle 10 che questi giocatori sono impegnati sul tavolo gli ha permesso a entrambi di arrivare in finale molte energie mentali ma anche fisiche sì beh sicuramente qua l'età conta perché un giocatore anche non vecchio tra virgolette ma un giocatore già di 40-50 anni arriva meno fresco e loro hanno soprattutto Andrea Ragonesi dalla sua la freschezza dei 20 anni trentenne o poco più invece Achille Mignolo se non sbaglio è un classe 88-89 apre le marcature sui birilli le aveva già aperte Mignolo sul pallino Ragonesi con 4 punti su questo scatolino un po' allargato Bricolla questo è il classico errore che si fa su questa Bricolla soprattutto sul biliardo nuovo il biliardo nuovo che tende a far cedere la traiettoria di Bricolla vicino all'angolo però conclusione sotto sponda per Ragonesi si fida sotto la stecca per giocare un giro probabilmente e ho capito che si fida e si è fidato davvero bene 4 punti con la battente ammortizzata nei pressi dell'angolo ti dirò che però questa scelta decide di metterci sotto la stecca però poteva favorire poi uno sponda biglia con il pallino in arrivo oppure uno scatolino Mignolo a incandelare di seconda e terza conduzione magistrale della palla battente sono molto simili in colpitura entrambi hanno una steccata corta, tesa, rapida tipica del gioco dei grandi colpitori all'italiana anche se entrambi sono molto bravi anche alla specialità dei 9 birilli allora dicevamo nella semifinale che uno di questi giocatori andrà a tenere compagnia ad Andrea Paoloni l'unico ad aver vinto due edizioni unendo chiaramente la Fibis Open all'allora gara nazionale BTP la formula era identica e cambiato solo ed esclusivamente il nome si accetta di due anziché di tre come era nelle intenzioni di Achille Mignolo tre sponde anche per Ragonesi Ragonesi alla sua seconda finale e invece alla terza Achille Mignolo una vittoriosa con Natalino Scorza, Spoleto l'anno scorso e una persa con David Martinelli a settimo torinese molto preciso Ragonesi anche se ha ceduto un po' nell'ultima parte questa biglia passa in mezzo però ottima la forza per Andrea due punti e qui vediamo se ci andrà di 5 sullo strettissimo o di una senza cercare grosse avventure di mezza forza si una forza allegra spinge la biglia di Ragonesi verso l'angolo e ottiene una posizione delle biglie difficilmente attaccabile di Andrea Ragonesi si china per vedere se ha a disposizione una battuta sulla sponda lunga ma poi probabilmente si orienterà verso un passaggio difensivo molto schematico l'inizio di questa finale giustamente ma entrambi si temono molto come colpitori quindi cercheranno di tenere a bada il braccio l'uno dell'altro ancora sul largo questa bricola è ancora la biglia di Ragonesi attaccata e bricola anche per Ragonesi bravo Andrea sul largo del castello stesso tiro per Mignolo con la biglia più spostata verso l'esterno un po' più difficoltosa ma dove c'è più possibilità di fare attacco e difesa quindi di realizzare i virilli e spostare la battente convenientemente verso la mezzeria trasversale prende i quattro peggiori tre sponde di calcio ora per Ragonesi si va a braccetto nel primo sette undici a dieci molto meticolosa la preparazione di questa tre sponde per Andrea Ragonesi che va a vedere l'uscita in terza sponda anche lui sul largo e tre sponde adesso sul quadrato inferiore con la biglia appena larga rispetto alla direttrice del rosso da quella partenza quando la biglia parte da sotto i birilli ha il rosso intorno al quindici della sponda lunga perfetta questa tre sponde di Mignolo che addirittura sforza la misura non so quanto sia voluta ma efficacissima questa conclusione di Mignolo che realizza dieci punti ci va anche il rosso mi sa Gianluca si abbondantemente anche di tre sponde di tre sponde adesso ad allungare verso il pallino non so se ha tre sponde ma secondo me si il diamante lo vede Gianluca il diamante del dieci lo vede esce pensavo mi ingannava pensavo ci fosse il birillo davanti una porzione un po' infelice presa da Andrea rimane di fisso oppure di una traversina più passata traversina 4 probabilmente di due corse bravissimo 8 punti per Mignolo con due conclusioni una da dieci di calcio e una da otto di traversino si porta 29 a 10 e mette a segno il primo break vediamo se si fida di questo sfaccio ragonesi o se giocherà qualcosa sul pallino sfaccio per un niente non c'entra il pieno dei birilli c'è questo pallino che viaggia verso il castello 12 punti per Agonesi prima ha fatto un giro si girone no no un giro proprio ah si perché partiva di giro giusto di tre sponde traversino per Mignolo che gioca a fermare praticamente la battente sul posto allontanare le biglie non difende e giro a disposizione di Andrea Ragonesi c'è distanza tra le biglie ma fattibile a parte una gran bella steccata qua Ragonesi riesce a 15 punti di qualità riesce a chiudere la traiettoria della biglia avversaria nonostante non abbia giocato una forza molto sostenuta perfetto Ragonesi ecco il Mignolo di 5 sponde veloce bella uscita questa del Calabrese bella in sicurezza sul pieno della palla avversaria giro ad andare avanti Gianluca c'è ancora? adesso un biliardo che chiude così ci potrebbe anche essere o se no a impennare la stecca a giocare di colpo molto più complessa si è stato proprio verso verso l'interno giusto impostarla in questo modo se si decide di battere forte senza ombra di dubbi tipica impostazione che si dà all'esecuzione proprio sul panno nuovo che tende ad allargare la traiettoria del giro in velocità prende di prima la ricalcia dopo si buon per mignolo che ragonesi è è destro quindi si dovrà aiutare addirittura con lo steccone ma sai qua lo steccone ti aiuta da sfida di più si ma si la gioca di una passata si si colpettino no a spingere a spingere si fa buono il filotto sul largo del filotto si colpettino aveva un'apertura migliore anche per andare verso il dia trappallino si 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 non c'erano entrambi gli obiettivi ma il 2 largo gli avrebbe garantito anche il 4 probabilmente anche un filotto preso sul largo un 6 un 6 con il birillo di testa e il rosso due punti per la garufa bella la risposta di mignolo si è riportato avanti andrea lagonesi 41 a 37 ora dopo questi due punti di mignolo sulla mezza garufa difesa centrale gran bella presa di palla penso al volo mignolo anche perché se si ricorda le due garuffe fallite con Soresini è andata di lusso non aver perso quella semifinale dopo aver lasciato quella garuffa eh sì sembra orientato la sta guardando da garuffa quella garuffa monoforza e monopunto palla no il fatto che a prenderla male si può lasciare veramente tanta roba sul bigliardo e infatti Achille saggiamente alza la battuta carica d'effetto e ci va da questo lato non difende sì la salvezza è non è una salvezza facile con quell'angolazione ma si trova di più sullo sfaccio quindi sulla parte alta della biglia verso il centro del bigliardo ti sta valutando il calcio ragonesi ma poi cambia idea anche perché ha questo filotto di palla grossa ad andare avanti non mi sembra improponibile anche a incrociare c'è esatto primo errore per ragonesi sì un errore abbastanza vistoso non si può neanche imputare all'esperienza lui che è un colpitore ha già tante ore di volo qui doveva sapere che la palla andava mirata più grossa probabilmente aveva paura di non scambiare voleva la mirata più scarsa affidandosi al trattamento per farla rientrare vediamo se evita il rimpallo Mignolo non lo evita però e qui vediamo se la fortuna gli dà una mano e gliela dà va a insinuarsi dietro al pallino e anche al volo è problematica se non hanno uscita al volo nei sogni c'è anche la garuppo tutta di trattamento eh sì anche perché non sai bene come arrivi da quella lunga un tiro saggiamente è una buona presa di qua sì sì vediamo come tratterà questo traversino Mignolo io penso la forza della lunga opposta tornare in centro 10 punti per Mignolo esplode il castello sì scusami c'è la forza della corte opposta 49-41 garuffa garuffa con il pallino il pallino da tre a fare da strada sullo stretto due punti per ragonesi buona la forza buona la forza si porta a 43-49 di Mignolo stesso tiro per Achille anche lui con la guida del pallino sullo stretto sullo stretto intercetta un pelo di palla prima è successo qualcosa nel punteggio di tutto a posto si può riprendere il gioco regolarmente passaggio da tre per ragonesi che realizza questo pallino un buon pallino difficile la risposta per Mignolo vediamo se riesce si riesce a posizionare la mano d'appoggio gancio sul largo vediamo quanto risale la biglia bianca è chiave che risalga bene perché sennò vediamo dalla diagonale questo questo giro ma secondo me la vede si di questo giro dicevo si si qui se la gioca spingere ne deve giocare solo una sennò di colpo si è più facile ha più controllo di colpo e che controllo ragonesi 6 vediamo se c'è anche il pallino gli sfila dietro incredibile 52 sarebbe andato a 55 sarebbe rimasto in parallelo raddrizzata ah no ha giocato lo striscio al passaggio vediamo se scambia è scambiato fantastico fantastico Mignolo vediamo se arriva pallino e per un niente non fa partita su un colpo il tiro c'era è uno scambio è uno scambio un po' celestiale in quella zona ma non era proprio pulita vedi il passaggio il nostro Mirko ci l'ha fatto vedere due volte un passaggio da breve pallato no 57 52 qua ragonesi ha chiamato a un autentico capolavoro ma sembra avere il gancio di parabola non riesce ad entrare giro per Mignolo vediamo se giocherà anche se ce l'ha nelle posizioni esatto pallino da 4 si affida il giro andare avanti o allo striscio addirittura due ci sono e tali rimangono probabilmente e qui nei sogni eh sì è lo stesso tiro di prima eh però è un po' più bello fatto sta che deve fare il rosso per chiudere eh sì perché 4 e 3 e 7 non gli bastano quindi il rosso 3 birilli subito oppure il rosso accompagnato dal pallino un punto solo manca Mignolo per far suo il primo set Ragonesi è andato vicino ad un niente e Mignolo qua striscione forte e brucia la chiusura con il pallino da 3 1 a 0 per Achille Mignolo cambia il colore il colore alla biglia eccola qua mamma mia gli ha veramente cambiato colore spot per noi 1 a 0 per il calabrese in questa finalissima della terza tappa Fibis Open in corso di svolgimento a Massafra all'hotel bizantino Massafra in provincia di Taranto Caruffa per Agonesi è disposta all'acchito non perfetto di di Mignolo Mignolo passaggio difensivo sta giustamente sul grosso passaggio di qualità lascia la gialla praticamente attaccata alla sponda corta Ragonesi buona la forza su questa smezzata per Andrea il terribile ottima difesa trasversale qui secondo te di misura a affondare no a affondare con quel pallino lì ti fai buono anche il largo però lo vedevo già largo sai perché te l'ho chiesto che sono fisso è impostato tanto largo e quindi gli hai assegnato la misura capito qui l'unica cosa di Achilles se si può trovare un difetto a questo splendido giocatore i tempi troppo veloci è vero che sono giocatori di ritmo che hanno la facilità ma non gliela fa pagare questa questo infortunio a Mignolo con 14 punti 18 a 0 per Agonesi in avvia possibilità di risposta per Achille Mignolo con una dritta a incrociare di colpo in testa può anche battere di sventaglina ci sono entrambe le possibilità sta nella via di mezzo riesce a rientrare in terza Mignolo vediamo se quel birillo che è rimasto molto vicino al filotto lo aiutava lo poteva aiutare a sgambettare un altro birillo del filotto qua dritta a incrociare invece per Ragonesi sai qui l'esecuzione di Mignolo è più un'esecuzione che fai con la mente anziché con il braccio sì sì perché è brutta vicino vicino a sponda ti devi avere ben presente in testa la steccata che vuoi portare parlavo parlavo di quella bricolla che ha lasciato sul largo si ti punti più stretto perché sai giustamente che il biliardo cede e perché sai che sullo stretto non succede niente intanto bellissima la replica di Mignolo alla sventaglina di Ragonesi che prova a rimanere agganciato in questo secondo set mi aveva preso molto margine Ragonesi è la classica domanda che faccio spesso nella scuola qual è la parte della ragione molti mi rispondono il largo che era un largo giustificato per carità se c'è il pallino lì e poi viene fuori il classico discorso ma sullo stretto quanti punti di palla buoni hai e che cosa succede se dai la forza della corta la risposta è niente per prendere il largo devi montare lo stretto esattamente il largo è una conseguenza di uno stretto che ti parte con un po' poco effetto o con un po' troppa forza questo era un girone a ingaruffare a girare un giro a ingaruffare e a girare a pallino da 4 con la battente ma sta buttando un po' sulla garibaldina Achille di seconda no a incrociare era difficile da quadrare questo la riportavi molto di più se facevi il 2 all'andata si però se facevi il 2 all'andata rischiavi di imparlo si rischiavi di non incrociare nei sogni con un po' di effetto contro vediamo se prendi ora rientro giudici punti per Mignolo risponde vedi questa questo essere un po' caribaldini è anche frutto di questa facilità che hanno sulla palla davanti e avendo questa facilità probabilmente se stesse se stesse parlo di Mignolo un attimo più attento sulla sponda importante si costruirebbe cioè finalizzare quella sponda per costruirsi queste esecuzioni frontali non riesce ad aprire la gialla ma più che altro non riesce a evitare il rimpallo era difficile evitarlo adesso l'hanno buttata proprio sulla si diciamo che i ragonesi sta cercando di rispondere alle conclusioni di Filotto di di Mignolo che qua tira fuori una bellezza infinita perfetta e difesa centrale vedono quando si abbassano a parte la meccanica fantastica che hanno entrambi ma quando si abbassano vedono proprio il punto di palla davanti a loro non hanno probabilmente nessun tipo di aggiustamento da fare 36-34 e deve ricominciare tutto da capo ragonesi un 12 e un 10 per Mignolo mi ha ristabilita la parità qui mi sembra di garuffa al volo al volo di malvolo sì ho visto dal conteggio che ha fatto perché è andato a vedere le coordinate pensavo che giocasse una garuffa esasperare l'ingresso per scappare verso il pallino da 4 e qui pallino da 3 sembra intenzionato ad altro qua posso dirti che non sono d'accordo e so come la pensi anche tu non c'era bisogno di andare a forzare dopo aver recuperato 22 punti in due colpi anche perché poi ne puoi perdere con molta semplicità 14 gli va più che bene di lusso a Mignolo mi va più che di lusso ad Achille ha rischiato di perdere sul colpo questo set lui la voleva vincere sul colpo ma su un biliardo nuovo insomma già non sono d'accordo lo stesso però ci poteva più stare e questa sfida via lunga di Traversino ma non penso a Revis si è fermata un po' sembrava la carica anche a me di effetto invece poi non ne aveva poi tanto gioca a calcio di rientro probabilmente passato nella zona morta e adesso girone arrivo palino 3 girone si a come si punta è impostato è impostato però leggermente stretto la duca no ho paura che con quella distanza si chiuda non ha cominciato appunto il giro adesso giro giro a spostarsi con la sua verso il pallino due punti e un pallino che gli offre tanta difesa qui costringe Ragonesi ad andare a cercare palla di 2 o di 3 probabilmente no ma la vede vede palla io credo di sì proviamo sì 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 c'è tutta ha giocato questo bravissimo ha giocato questo rimpallo bravissimo batte sul tavolo anche mignolo che bravo Andrea davvero che bravo questa è oltre 3 metri 3 di calcio penso ad affondare le biglie per mignolo sullo stretto giustissimo questa perfetta quello che doveva fare sulla conclusione di 2 l'ha fatto adesso su questa di 3 che se ci pensi la traiettoria molto simile appena più larga quella del traspondo giro per Ragonesi 7 punti conduzione magistrale della palla battente e un buon impatto sul pallino si un premio bravo si fida mignolo a tutto bigliardo e qui giustamente ha mirato sul grossissimo eh si perché doveva necessariamente sicuramente sarebbe andato verso l'effetto anzi forse l'ha mirato anche dentro si si ma è una palla che non è non è sbagliato poi dipende dalla forza che dai e qui c'è il pallino sul girone il largo no il largo no però l'alternativa così sicuramente non lo fa il pallino perché non fa neanche il castello molto simile a quel girone di Martinelli 49 36 il punteggio a favore di Ragonesi 1 a 0 il computo dei set per Mignolo sta giocando un angolo a mantenersi in questo nel medesimo quadrato con la battente non coronato da successo questo disegno è un filo scarsa e giro per Ragonesi e anche qui conserva la battente vicino alla lunga 7 punti anzi 11 punti è chiuso è uno sbirillo un po' anomalo faccelo vedere a replay questo sbirillo perché me ne sono accorto dopo ah guarda girato lo sbirillo trotto questo non l'avevo mai che classe Andrea 1 a 1 spot è un po' è un po' è un po' è un po' lo sbirillo trottola bella questa bellina uno fare io ne feci una da ragazzo bella che tirai la sventaglia da ragazza ragazza tirai la sventaglina presi il castello in prima passata e feci 12 dall'angolo facessi 12 una sventaglina arrivando dal 5 dal 6 presi il castello in pieno feci 12 di prima passata buttai per terra tutto che poteri poteri contro superpoter ti dico anche con chi giocavo con mojani e intanto si mancava 12 no 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 era durante la partita solo quella volta lì gioca ancora sì sì alessandro giocatore bene tanto candela di tutto effetto avere a chi ne mignolo che si porta a casa un bottino mica da poco 8 punti e soprattutto si porta a casa questa questo posizionamento gioca a giro di passaggio ragonesi che bravo andrea che meraviglia che meraviglia passaggio molto radente al pallino c'è passato vicinissimo con la biglia gialla fuori il braccio se questo passa da rimpasso sono tutti vediamo per un niente realizza anche il pallino forse no passato vicino a tutto questo con la medesima bravura era 16 questa era da 16 perché non si scompone ragonesi dritta di una passata da appoggiarsi al pallino anche questa mica male davvero qui non è bella la strada di questo tiro ti salvi forse sulla palla piena dando una buona forza così è difficile salvarlo ma sai qua è una delle poche volte che forse avrei accostato no no lo stesso da lì troppa paura di subire un goccio meno va dentro con la sua è vero anche quella e questa termina da dietro al pallino se non cede qui un pochino e gli è andata dietro forse c'è un passaggio a stecca alta di effetto buono a questo punto di giocarla di due si curvare tanto e dargli la forza del pallino picchierà molto vicino all'angolo a tempo per recuperare poi è uscito veramente alla grande il pallino sarebbe il giusto premio per questa eseguazione il pallino da 4 adesso per agonesi un po sponde biglia no non girare bella la forza data questa una bellissima fare la forza della gialla per arrivare dietro al pallino piccato dietro al castello peccato che giri intorno a questo pallino e mi sa che non ha nemmeno difeso sì ma non c'è tanta roba parabola mignolo per il giro mi è da pensare ma guarda che non è bella questa posizione sponda biglia fare al pallino da 4 lo rimane alto con la sua deve aumentarlo un po di forza e confidare in un buon impatto sul pallino mentre sulla biglia e addirittura forse non se ne è neanche andata a cercare questo no no l'ha cercato sperando di non impattarlo pieno e allungando l'isola ripreso proprio sul pelo giro a parificare però per me questo tipo di esecuzione ce l'aveva al limite se l'aveva solo sul largo sul rosso c'era il pallino ci mette sotto la stecca questo filotto di seconda incrociare a pallino da qua e qui molla un po la steccata sai prima in una posizione identica anche se molto più difficile l'aveva indurita troppo ha cercato di correggere il margine d'errore era indurita sì 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 ma quello sai ti sostiene i media pallino e almeno metti una in un lato e l'altra garantisce un po di più l'incrocio lo scambio dei dei settori non si gioca le zegovina non si gioca la raddrizzata giocato la sventaglina buon per lui che non fa il viaggio a vuoto ma invece sì non l'ha fatto il pallino non ha rimane in faccia questo pallino cercherà di accompagnarle tutte e tre tre punti e pallino da tre i bragonesi come l'ha giocato prima mignolo la partita precedente in finezza sia farà non detto troppo presto secondo me non so se riesce ad andare sulla corta una gioca ricordiamoci che la zegovina un po stringe l'immagine lo sfaccettino guarda che uscita la torinese doc veramente una bella una bella cosa diremmo che sia ed eccola qua la garuffa che l'ha tradito due volte in semifinale infatti adesso ci mette la nera l'anello se per venire giù più dritto però gli scappa via lo stesso però buono il controllo si buona la forza buono il controllo evidentemente non riesce a sistemare la battuta più che la steccata mi viene da pensare secondo me ancora la steccata filo troppo corta secondo me deve entrare penetrare un po di più sulla porta per far leggere l'effetto ragonesi punto due punti probabilmente il punto peggiore di questa palla ma forse ce n'era anche uno più peggiore sia fare zero a rimanere proprio carico un po più grossi solo deve un po più lavorare certo fattibilissimo è ormai semplice l'esecuzione a z ancora un castello che vola via se non sbaglio aveva fatto il 10 anche la memoria è una gran bella memoria tra l'altro 33 a 31 pari garuffa con pochissimo taglio per agonesi quasi liscia si per assicurarsi lo stretto il castello il cuore del castello 3 birilli 41 a 30 gran bel biliardo in questo momento stanno esprimendo questi due ragazzi fanno 50 anni in due questi signori si sposta verso il centro del biliardo con le biglie e da ruffa per ragonesi si prende un altro birillo che lo porta 43 guarda ho disegnato allora la stecca davvero rigida achille perché l'ho disegnata su pensando alla traiettoria gli faceva fare a kill e quindi con una lunga che respinge un po troppo invece adesso è slittata la palla aragonese vero che aveva una forza inferiore ottima questa vita di di ragonesi che mette difficoltà adesso al piemontese hai detto ti stava facendo notare il nostro regista attentissimo che hai detto mignolo e non hai detto al contrario hai detto ragonesi dovevi dire mignolo si vede che ha fatto regia in due partite solo sia lucidissima bello e qui di calcio ma non lo so non è un tiro che amano in molti o bello invece di calcio bravo bravo ho fatto il minimo però ha fatto davvero il minimo che sfortuna sfortuna sulla lunga e non è andata neanche a fare il pallino da tre dopo non solo non l'ha fatto direttamente ma non l'ha fatto neanche dopo e adesso questa che è davvero grossa col pallino messo lì è qui un errore abbastanza grave a questo punto della partita per aragonese di forza perché io sono per l'aumento di forza ma quando è vicina così non importa gliela dà la sponda direttamente gancio fondamentale può essere il tiro di questa finale difficile spostarsi in angolo con la nostra sul tiro questa viaggia molto bene per andare dietro al pallino inchioda dietro al pallino bravissimo mignolo qui i pirilli non se neanche guardati sì qui è stato dal giusto al largo soprattutto ha valutato in modo perfetto il fatto che sul largo avrebbe messo la palla dietro al pallino il fatto che questo potesse essere il tiro della finale non ho parlato a caso perché qui l'agonesi deve toccare la piglia e non la tocca l'agonesi questa piglia con l'accosto del maresciallo a chito per mignolo vediamo se sono curioso di vedere se si metterà dalla parte dei mancini eh sì perché così se lo fa anche oltre che come ingombro anche come obiettivo il pallino quattro quattro realizza il pallino da quattro in totale sono sei e qui io non lo so se avrei scelto da quella parte cioè non andavi sotto pallino solo per un discorso di media non sarei andato vicino al pallino perché il tre lo perdi di sicuro bisogna vedere come gioca a farlo e ad allontanarlo e lo fa anche molto bene anche se guarda sono molto vicino non è facile fare quel pallino da quattro no ma io tireresti di lì ma cosa sta tirando? ma ad andare via no gli ha rigiocato il tre 48-46 pensandoci un nanosecondo ma ad andare via e a fargli steola brutta? eh appunto addirittura passa anche lo striscio se ce l'ha da crearlo guarda un po' guarda un po' cosa gli ha tirato fuori Andrea guarda un po' cosa gli ha tirato fuori Andrea guarda era più facile di quel che si crede si perché la stecca alta la larga te la crea di natura quella diagonale lì è andato via di pelo di palla molto frettoloso molto frettoloso molto frettoloso a chi le miglioro in questo caso qui è difficile deve continuare a agganciare bravo eh però ma tutto tutto è nato da quella scelta con le mani si tutto è nato da mettersi in quella scelta sulla biglia libera e quindi va di lusso a Mignolo eh solo due punti 52 ragonesi 51 Mignolo sponde biglia di effetto buono no no questa è la forza la forza gliela prende negli occhi questa 6 punti 57-52 certo non era mica facile prendere così è il fatto che adesso è imbazzica come si dice perché allora tirando forte della lunga richiamando al pallino da 4 uno si fa altro o un improbabile calcio al pallino ma è un po' un sogno da prenderlo di solo una botta su una corta eh ma tira questo se non c'è mica altro ma si va tutto sommato bene poteva perdere anche sul colpo un 3 da guadagnare per Mignolo non vorrei dunque ragonesi ha fatto il pallino si si 55 cambia cambia parecchio potrebbe giocare anche il giro volante a venire a pallino da 4 so che non ti piace senza effetto è però un tiro di chiusura eh non è un tiro intermedio no no infatti passa anche con la raddrizzata si vede male dall'azio lo striscione lo brucia attenzione attenzione alla battente attenzione alla battente perde sul colpo Mignolo ha preso lo spicchio della buca? si perché se no come fa a arrivare lassù vediamo la replay hai trovato tutto questo colpo? non ha preso la corta la corta pensa se avesse dato meno colpo non avrebbe bevuto cioè guarda che è difficilissimo avere quel belillo lì pubblicità per noi questo championship è stato giocato con il nuovo Aramith Tournament set con una unica moleculare struttura garantisce razor-sharp precision e non surpassa longevity unquestionably the best ball in the world questo set è disponibile in a TV e a value pack version as well as in the new My Aramith range of ball and cue cases now you can bring and play with the best ball set everywhere you go My Aramith bringing new dimensions to your billions experience finale rocambolesco si pensavo ce lo fai vedere quel replay del tiro di chiusura Mirko intanto sono andati in pausa pensavo nei sogni ma su quello striscio lì siccome a volte succede ma invece tirare proprio a non reggerlo alla battente proprio a battere in corta girare largo puoi anche trovare il pallino si si questo non succede se tiri a volare via scusa fammi rivedere quel colpo lì aiuta il passaggio Gianluca o no? ma no il passaggio c'è tanto è già passato guarda ma ma fa rivedere questo passaggio questo non era mio perché forse se non avessi dato quel colpo non sarebbe passato faccelo rivedere al replay dopo l'impatto non ha vista la gomma della sponda corta si 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 vede al replay la deformazione della gomma quando si insacca dentro la palla guarda la bianca quando va a battere in corta si ti da proprio l'impressione di entrargli dentro non lo so se senza colpo forse eh perché ti levi tanto però no ma però aspetta aspetta passa prima la tua sulla linea di rimpallo quindi senza colpo passi ancora meglio perché passi prima si è anche vero questo già tornati sul biliardo è stata una pausa velocissima vediamo se ci sono arrivati dei consigli tanti messaggi che ci stanno arrivando sulle varie messaggerie di chi sta seguendo le gesta di questi due abilissimi giocatori abbiamo detto prima 50 anni in due la nuova generazione del biliardo non sta crescendo ormai è cresciuta è arrivata Ragonesi e Mignolo Ragonesi soprattutto Mignolo è già da qualche tempo affacciato al panorama che conta del biliardismo italiano Ragonesi al volo di due vediamo se Achille se ad Achille riesce ancora la grande remontada è certo che aver vinto la partita e perderla sul colpo può dare parecchia noia un bello un bello questo travezzino di Mignolo che conta i giri a entrambe le bidie ottima partenza per Achille segnale segnale anche di lucidità è comunque direttamente dalla corte e alla uscita anche il ragonesi due punti mi ha dato ragione mi ha dato ragione Miki mi ha detto se avesse giocato con il pallino con l'effetto a destra sarebbe potuto arrivare anche a pallino da 4 evitando quello spiacevole inconveniente Miki vai a dormire che domani sarà una giornata lunga bello eh che i nostri grandi top player seguano anche gli incontri del Phoebe's Open 13-12 avanti Mignolo un punto ma sotto un set qui Mignolo ha cercato l'ingresso massimo di 2 ha preso un pelo di biglia qui esplode ancora il castello eh però con molta fortuna eh qui il birillo abbattuto è andato a battere 6 punti non è passato sul filotto si è accorto? si quel birillo lì ne ha battuti altri 2 effetto bullying effetto domino eh questi spirilli sono un po' curiosi per oggi per ragonesi ci sono i birilli con le ali aiuto eh qui probabilmente un po' di scoramento vediamo se va subito sul filotto diminuendo le passate oppure se gioca di 3 passate di seconda va subito sul filotto eh qui ci sta di fare questo errore un po' adesso sul filotto oppure 0 filotto fare quel 2 è un è un volo sì qui un po' veloce ragonesi eh poteva essere un colpo da K e se si ridaffiato a mignolo 27 19 8 adesso i punti di vantaggio di ragonesi gancio con ogni probabilità buona buona la forza gancio anche per mignolo gioca di meno effetto conserva bene la battente nella zona d'angolo ma scivolerà un po' lungo con l'avversaria e vediamo che se qua ragonesi se la sente se ci mette sotto la stack di sicuro per questo striscione o 7 sponde arrivo pallino e non sono proprio vicine vicine eh lo so ma al fianchetto a qualche insidia diventa un 7 sponde quattro largo probabilmente sicuro no addirittura i trabirelli 11 punti per l'agonesi si porta 38 doppia Achille Mignolo fermo a quota 19 Mignolo deve tirare fuori un super tiro qua e lo tira fuori ma mia Mignolo capolavoro prende la sponda corta più corta che lunga e torna in difesa favoloso Mignolo riceve anche i complimenti di Ragonesi che stecca molto vicina a sponda aprirla subito sul filotto poi pieno fantastico sono due colpitori eccezionali in appoggio Ragonesi avendo spazio verso la corta vediamo questo appoggio rimarrà di fisso molto probabilmente oppure un calcettino dalla corta che può creare poteva rimanere poteva rimanere peggio ma ti dirò che sai che cosa potrebbe a parte che sono quasi attaccato deve sollevare immediatamente la stecca verso l'alto eccola qua è entrato troppo addirittura strano perché biglia già la congelata nell'angolo comunque è andata di lus Ragonesi qui non deve riaccostare Ragonesi gli ha già andata bene una volta e deve necessariamente alzare non è quello che doveva probabilmente fare prima anche perché spesso su questi rimpalli si trova una mezza parificazione si allontana spesso sul rimpallo la contraria rimane vicino all'angolo quindi in una posizione scomoda girone anche perché sul giro c'è il pallino vediamo se passa dal rimpallo l'aveva centrato perfettamente questo mignolo e traversino per Ragonesi vediamo come lo giocherà secondo me di due e mezzo esatto a venire nell'angolo di destra con la battente gli conta i giri Ragonesi Ragonesi perfetto Andrea il terribile perfetto striscione ad arrivare dietro al pallino la strada c'è no solo il rosso la strada c'era non ci credo non ci credo certo che a fare una perla così e a marcare zero non ci credo non lo volevo dire e qui ha ragione ha ragione maggio a volte dicendo che fa poco morale tirare queste video quando non c'è il rosso perché succede sempre qualcosa quando non c'è l'obiettivo da centrare nel castello qui Ragonesi sullo sfaccio probabilmente su questo duomo di tre scivolare a pallino con la battente perfetto perfetto di una importanza vitale eh se un pallino lo portava a 50 io non l'ha preso eccezionalmente bene questo pallino ma non lo deciderebbe mai no anche perché a 50 lui ci si è messo e qua deve far capolavori adesso Achille qui gioca a spostarsi di lunga centro e a far rientrare l'avversaria giustamente per ritornare in difesa centrale perché anche qui obiettivo massimo non centrato per un'inezia di parabola ragonesi ci da poco ci va a pallino da 4 infatti te lo devo dire che mi sembrava molto ardua arrivare a pallino da 4 eh però gliel'ha messo parecchio in traiettoria su tutto quel pallino si prende una battuta larghissima quindi per aprire le biglie rimane corto match point può anche attendere Andrea è insidioso eh si quel pallino lì è pericolo così mi piace così mi piace perché poteva fare anche 6 4 di l'impasto col pallino da 4 quello che veniva è la messa in banca 58 29 serve più di un miracolo a mignolo miracolo che non ci sarà probabilmente vediamo un po' se questo pallino si mette in mezzo qui mi sa tanto che ragonesi deve battere sulla lunga di sinistra si qua si potrebbe anche accostare tutto sommato ma ma ne vedeva ne vedeva tanta non corre così tanto da perdere il giro però un tiro di rientro potenziale si una bricola di misurismo tutto per tutto la forza non è brutta e anche la traiettoria 10 punti per mignolo bravissimo Achille rimane dentro a questo match è una chiusura che si dovrà guadagnare ragonesi c'è questo pallino che è grande che è grande un oblò più o meno qui come entra largo il pallino si fa basta che prenda palla sul largo a chiuso e chiude Andrea Ragonesi è il vincitore della terza prova della Fibis Open di Massafra una grande prova per Andrea però i complimenti a entrambi perché ci hanno regalato davvero un grande bigliardo un grande bigliardo tante tante emozioni qualche spunto di riflessione interessante su cosa a tirare e anche non tirare qualcosa da mettere nel bagaglio dell'esperienza e che dire noi in un'ora e due minuti è volata via questa finale voi che siete stati in 1800 a seguirla a cavallo di questa bella mezzanotte di bigliardo su bigliardo channel una grande vittoria per Ragonesi che fa compagnia a Poloni nella vittoria di due edizioni della Fibis Open e per lui la terra pugliese si è dimostrata ancora una volta fortunata perché ha vissato il successo dello scorso anno in quelle di Gallipoli e sempre in terra pugliese qua a Massafra si aggiudica la terza prova una grande prova di Andrea Ragonesi ma appunto complimenti anche ad Achille Mignolo che è stato un po' sfortunato soprattutto sulla chiusura della terza ed entrambi hanno fatto probabilmente un grosso balzo in classifica non so come era messo Ragonesi nella classifica Fibis Open non è ancora disponibile l'aggiornamento magari ve lo diremo nella giornata di domani o lo potrete poi controllare a termine da martedì in poi sul sito istituzionale della Fibis intanto scorrono gli highlights di questa finalissima che dire è stata una gran bella giornata di biliardo che è cominciata stamattina alle ore 10 è terminata allora è un'informazione di servizio per quanto riguarda il proseguio di questa tappa di Massafra avremo le dirette Rai dalle 15.30 alle 18.30 sia nella giornata di domani che nella giornata di martedì per quanto riguarda Bigliar Channel invece domani seguiremo alcuni incontri del un incontro verso sera un incontro del girone di di uno dei giorni di qualificazione non vi sappiamo ancora dire quale e poi tutti davanti tutti in davanti alla televisione su Rai Sport HD io vi saluto perché domani tornerò a casa quindi ho l'aereo verso le 9 quindi non so se potrò farti compagnia al commento sicuramente sarai al commento con Enrico Cattaneo Enrico Cattaneo che ritorna dopo gli impegni con lo sci il grande biliardo non termina qua e vi diamo l'appuntamento a domani e una calda buonanotte grazie per averci seguito fino a quest'ora ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.